Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci, sempre verso Firenze rallentamenti per lavori tra Empoli ed Empoli Est. Spostandoci sulla 12, un chilometro di code a tratti, tra l'allacciamento con il raccordo Lucca-Viareggio e l'allacciamento con l'A11 in direzione Rosignano. In A11 rallentamenti per un incidente avvenuto al chilometro 31 e 700 tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. A Firenze e in via Faenza sono nato lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! A Firenze e in via Faenza sono nato lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi.